Tromba d'aria a Verbania dove c'è stato anche un downburst che ha scoperchiato tetti e abbattuto diversi alberi. Un primo bilancio parla di ben quattro feriti, un bifragio seguito poi da, ripeto, tromba d'aria piuttosto palese, piuttosto diciamo così visibile in questa bellissima città che è per l'appunto Verbania. Una città di straordinario fascino, una città di straordinaria bellezza, una città ubicata ovviamente sul lago Maggiore, precisamente in Piemonte. Ripeto, devastata da questa violenta tromba d'aria che ha scoperchiato diversi tetti, quattro feriti, il mattempo continua a mietere danni in Piemonte, un bifragio nella conferma piena. Ha colpito più che altro la zona del Berbano Cuscio-Ossola, provocando ingenti danni e interrotta è stata la linea ferroviaria dopo l'Ossola-Milano. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, seguitevi, commentate e un saluto caro a voi al prossimo video da Leandro, una natura italiana. Grazie.